In vigore da oggi la nuova stretta anti-Covid, green pass obbligatoria alle poste in banca dal tabaccaio, previste multe per gli over 50 non vaccinati. A dicembre scende al 9% il tasso di disoccupazione, più marcato il calo tra i giovani, l'occupazione torna ai livelli pre-Covid e tra le donne aumenta al 50,5%, stabili gli inattivi. Carbon Sync, società internazionale per lo sviluppo di strategie di mitigazione del cambiamento climatico, aderisce ad Alice, il presidente Guido Grimaldi, un ulteriore supporto alla competitività delle nostre imprese. Rallenta il manifatturiero italiano che a gennaio scende a 58,3 dai 62 punti del mese precedente, in Europa primi segnali di risoluzione dei problemi sulla catena di distribuzione. E' morto all'età di 92 anni Tito Stagno, lo storico giornalista della RAI il 20 luglio 1969 commentò il viaggio più lungo, quello che portò allo sbarco sulla Luna. are therena serata, specificità del vari Lino. ... ... ...